Una vera e propria discarica abusiva nella periferia di Modica, dove un imprenditore di 57 anni ammassava rifiuti pericolosi e non su un'area di circa 800 metri quadrati. E' quanto scoperto nei giorni scorsi dei carabinieri di Modica unitamente ai carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, a seguito di segnalazione di siti del territorio di Modica, oggetto di presunte discariche abusive da parte del nucleo elicotteri di Catania. Il sorvolo dell'elinucleo di Catania ha dunque consentito l'intervento sul campo con personale specializzato, tra cui l'ARPA, che ha portato al deferimento a piede libero di un imprenditore edile del posto. Lo stesso si è reso responsabile in un terreno di proprietà privata della realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali, nonché di una combustione illecita di rifiuti speciali pericolosi su un'area appunto di 800 metri quadrati circa. Al contempo, le attività di controlli e accesso ispettivo si sono protratte fino a ulteriori controlli che hanno portato al deferimento di tre fratelli modicani, responsabili di aver realizzato un terrapieno su un'area di 3.500 metri quadrati circa, costituito anch'esso da un deposito incontrollato di rifiuti speciali. I militari, sin da subito, hanno attivato le opportune procedure di messe in sicurezza delle aree di interesse, oltre a porle sotto sequestro preventivo, al fine di poter poi procedere alla relativa bonifica. E' sempre i carabinieri, ma questa volta Vittoria e Marina di Ragusa hanno appena concluso una vasta operazione di controllo del territorio, nata da una serie di gravi delitti contro il patrimonio verificatisi nel corso dell'anno. In particolare furti aggravati, furti in abitazione, indebiti, utilizzi di carte di credito, debito e ricettazione commessi dagli imputati in concorso tra loro. A seguito di tali episodi, i carabinieri hanno dato immediato impulso a un'attività articolata d'indagine, consistita nella raccolta delle querelle delle vittime, acquisizione di informazioni da parte di persone informate sui fatti e l'analisi tecnica dei filmati delle telecamere di videosorveglianza acquisite sulle diverse scene del crimine, per poi incrociare gli elementi raccolti e ricostruire le dinamiche ai criminali, giungendo alla certa identificazione degli autori del reato. I militari hanno quindi identificato due cittadini vittoriesi di 23 e 28 anni, adesso sottoposti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni con la prescrizione di non comunicare con persone diverse dai conviventi.